La grande nevicata, ormai leggendaria del 1985, posta tranquilla e il suo record al momento resta imbattuto. Allora a Sondrio la coltre bianca raggiunse i 90 cm di altezza, fiocchi caduti, nell'arco di 4 giorni. Ma quella di oggi, 28 dicembre 2020, è stata una nevicata di tutto rispetto anche nel fondo valle. A Sondrio scenari da cartolina natalizia e circa 30 cm di neve fresca. Ecco le impressioni raccolte in città. Come le sembrano strade marciapiedi? Eh insomma, abbastanza praticabili ma neve ce n'è insomma. Comunque si cammina e poi è un paesaggio che veramente distende in questo momento da un senso di tranquillità e di pace. La neve riesce a... Riesce a allenire un po' tutte le oppressioni che abbiamo. Bellissima la neve. Quindi anche romantica. Beh dipende, dai. Lui con lui sì. Quindi buona giornata. Va bene, grazie mille. Buongiorno. Buongiorno. Con la slitta. Con la slitta. E per forza, non devo evitare di pigliarsi la macchina, usufruiamo dei mezzi che... di una volta, no? Quindi si torna all'antico. Eh beh si torna all'antico, ma è bello. Poi lo si apprezza volentieri, un paesaggio così si presta a fare quello che si fa. Benissimo. Buona giornata allora. Il 2020 non finisce di stupirci. L'anno del coronavirus ci regala anche queste scene di un'altra epoca. Veramente. Buona giornata. A rivederci. Grazie. Sta facendo vedere la neve ai parenti? Sì, esattamente. In che zona è? Io sono siciliana, quindi vivo qua da anni, ma fa sempre stupore e meraviglia. Benissimo. Salutiamo i parenti. Tanti saluti ai parenti in Sicilia. Grazie. Grazie. Arrivederci. Pure l'intervista televisiva, Ale. Giudizio sulle strade. Giudizio negativo. Non hanno provveduto a fare niente, sì che si diceva che doveva venire questa perturbazione, però è così dai, c'è di peggio. Auguri. Grazie.